Frequenta la Scuola Ribalte, diretta da Enzo Garinei, e successivamente la Scuola Teatro Azione, diretta da Isabella Delbianco e Cristiano Censi. Tra i lavori più interessanti possiamo citare la prima e seconda stagione della miniserie TV. Romanzo criminale La Serie, 2008-2010. Regia di Stefano Sollima. Dove è coprotagonista con il ruolo di Ruggero Buffoni. Sempre nello stesso anno lavora nel film Venti sigarette. Regia di Aureliano Amadei, nel ruolo di Tino. Nel 2012 è coprotagonista insieme a Raul Bova della miniserie TV Ultimo 4 L'Occhio del Falco e interpreta Sergio nella serie TV Un matrimonio di Pupi Avati. Sempre nello stesso anno partecipa al secondo film di Massimiliano Bruno Viva l'Italia, nel ruolo di Mazzone, ed è nel cast del primo lungometraggio diretto da Enrico Maria Artale Il Terzo Tempo. Prodotto da Aurelio De Laurenti e il CSC. In concorso alla mostra del cinema di Venezia 2013. Nel 2013 è presente in squadra antimafia Palermo Oggi 5. Dove recita al fianco di Francesco Montanari. Nel ruolo del mafioso Michele Catena. Nel 2013 partecipa alla fiction Non è mai troppo tardi di Giacomo Campiotti insieme a Claudio Santamaria. Nel 2013 comincia a girare la sesta serie della fiction I Cesaroni. Nel quale interpreta il ruolo di Annibale Cesaroni. Nel 2015 è coprotagonista nel film Se Dio vuole. Opera prima di Edoardo Falcone. Accanto a Marco Giallini e Alessandro Gasman. Per questa interpretazione viene premiato al Magna Grecia Film Festival come migliore attore. Sempre nel 2015 è nel secondo film da regista di Kim Rossi Stuart Il Centro del Mondo. Nello stesso anno è protagonista del cortometraggio Varicella di Fulvio Risuleo. Vincitore della settimana internazionale della critica del Festival di Cannes 2015.